dice che era un bell'uomo e veniva veniva dal mare parla un'altra lingua però sapeva amare e quel giorno riprese mia madre sopra un bel prato l'ora più dolce prima di essere ammazzato così le resto sola nella stanza la stanza sul porto con l'unico vestito ogni giorno più corto e benché non sapesse il nome e neppure il paese ma aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese compiva sedici anni quel giorno la mia mamma le strofe di taverna le canto a nina nanna e stringendomi al petto che sapeva sapeva di mare giocava a farla donna con il bimbo da fasciare e forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore della sua breve vita e ricordo il ricordo il ricordo più rosso e tutto in questo nome che io mi porto addosso e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino per la gente del porto mi chiamano Gesù bambino e solo adesso che gioco a carte e bevo vino io canterò futura per tutta la mia vita e solo adesso che gioco a carte e bevo vino e con futura porterò l'amore in tutto il paese e con futura l'onestà e con futura l'amore in tutto il lavoro poi perché noi stiamo insieme in tre e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino per la gente del porto io sono Gesù bambino e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino futura come Gesù bambino futura per un grande mondo futura per la pace dell'amore futura perché veramente crediamo oggi in una grande mondo in un grande paese basta immondizia basta coloro che verranno con noi sapranno che digiuni vuole l'onestà digiuni non vuole i corrotti digiuni vuole quelle cose lavoro diligenza obbedienza basta mancia basta amore ma noi daremo l'amore perché veramente ci pensiamo daremo una grande felicità il primo frutto dello spirito è l'amore ma di quale amore si tratta san paolo che scrive nella lingua greca non parla dell'amore istintivo eros né dell'amore gratificante di amicizia vidia ma parla dell'agape agape indica l'amore di dio verso l'uomo e l'amore dell'uomo verso dio e verso i fratelli non i compagni frega compagni non i fratelli frega fra sorelle e non sorelle frega fratelli e non compagni frega compagni dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito per questo la chiesa primitiva dal nome di agape al banchetto eucaristico l'amore viene da dio perché dio è amore chi rimane nell'amore rimane in dio e dio rimane in lui la natura di dio è quella di essere amore dio è amore ed è sorgente dell'amore questo amore di dio è stato riversato dai nostri cuori per mezzo dello spirito santo che ci è stato dato non come quella gente che parla vanvera non come quella gente che cerca rogna non come quella gente che veramente rompi coglioni alle persone dicendo stronzate scusatemi del mio parlare plurianale ma il mio parlare è un parlare di persona italiana perché qui non c'è coloro che parlano in modo italianamente politico qua siamo ragazzi del popolo italiano qua siamo lavoratori qua siamo compagni compagni veri compagni e non compagni frega compagni noi siamo coloro che giustamente cambieremo il mondo faremo un mondo d'amore un mondo di lavoro un mondo di denaro un mondo di felicità per tutti non ci saranno più guerre ma ci sarà solo pace amore e felicità salutiamo il vostro palella e auguriamo lui una buona serata insieme a coloro che questa sera lavoreranno per noi salutiamo anche coloro che si chiamano selmi i roberti coloro che piantano che piantano che piantano diciamo così che lasciano per cremone provincia le ragazze per coloro che lasciano a piedi le ragazze prima le raccolgono e poi le piantano a piedi quando c'è la pioggia i fratelli i compagni coloro che sono compagni coloro che sono che fregano i compagni questa la gente non parliamo di manuel gilberto un altro personaggio che rompe i coglioni ma che non ha studiato la politica che non sa nulla di politica e che sarebbe meglio che andare a scuola un altro ancora un altro cherry che non sa cosa vuol dire amore pace felicità lavoro onestà quanti ne dovrei dire di nomi quanti quanta gente che non sa cosa vuol dire lavorare quanta gente che non sa cosa vuol dire vegliare sul popolo italiano quanta gente non sa cosa vuol dire onestà solamente fratelli compagni frega compagni questa è la verità questa è l'anonima verità di un mondo sbagliato e poi si vuole ritornare in serie a con questa gente qua si va in serie merda nella più merda nella più fecale del mondo nell'immondizia più più sprofondata del mondo con questa gente adesso salvini va a brussel li mandiamo tutti a casa tutti e poi chi pagherà debito pubblico lo vedremo la flastas la paghiamo noi il popolo italiano non la pagano mica gli industriali perché loro se la pagano loro la flastas questa è un'altra truffa legalizzata questa è un'altra stronzata non si può andare avanti così movimento 5 stelle aveva detto che mandava a casa tutti abbiamo ancora il pd abbiamo ancora Berlusconi abbiamo ancora Prodi gentiloni Letta poi parliamo di felicità parliamo di una cicciolina che aveva dato amore per cinque anni a un popolo amore felicità andiamo a decurtare le pensioni alla povera gente ai pensionati 250 euro al mese ancora di quelli vergogna sporcaccioni dei politici sporcaccioni vengono a parlare di napoletano 90.000 euro vergogna presidente dell'inps 600.000 euro all'anno vergogna colonnelli 800.000 vergogna guardi ancora indagate per il caso Cucchi vergogna vergogna stato che cazzo di stato è questo chi abbiamo mantenuto fino ad oggi merda merda immondizia le guardie fanno servizio di vigilanza rischiano la pelle abbiamo ancora i contratti da rifare se ammazzano qualcuno vanno in galera per legittima per non per legittima difesa ma per eccesso di difesa così dicono i magistrati vergogna vergogna hanno assaltato un posto amata Cremona ancora oggi chi è stato se c'erano le guardie giurate c'era uno stendicino di persone morte perché coloro non scherzano coloro ammazzano le persone vergogna forza nuova a Torino missili aria aria armi guerra morte ma dove siamo ragazzi dove siamo futuro vuole un mondo nuovo futuro vuole un mondo veramente migliore non immondizia vuole i ragazzi che capiscono le cose si deve lavorare per amore si deve lavorare tutti nord est su nove quanta gente continuiamo a pagare grazie a chi alla politica degli stronzi quanta gente è arrivata qua da sud al nord all'est all'ovest quanta gente nessuno mi ha detto niente e da anni che li manteniamo non ci sono più soldi lavoro 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 per tutti anche per il nord per l'est per sud per l'ovest per il nord per tutti lavoro in Africa lavoro insegnargli l'obbedienza l'umanità insegnargli tutto questo non si è fatto questo non si è fatto vergogna quindi l'amore è anzitutto un dono un dono sovrabbondante ma è un dono impegnativo un dono che ci spinge a fare della nostra vita un dono Gesù ha lasciato questo comandamento nuovo che è il segno distintivo dei suoi discepoli da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri l'amore produce unità di cuori la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola l'egoismo divide l'amore unisce Gesù al termine della sua vita terrena e levò al Padre un'accorata preghiera perché tutti siano una sola cosa come tu Padre sei me e io in te siano anch'essi in noi Amen In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese Maestro che cosa devo fare per ereditare la vita eterna Gesù gli disse che cosa sta scritto nella legge come legge costrui rispose amerai il Signore tuo Dio come tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso gli disse hai risposto bene fa questo e viverai ma quello volendo giustificarsi dice Gesù e chi è mio prossimo Gesù riprese un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre anche un levità giunto in quel luogo vide e passò oltre invece un samaritano che in viaggio passandogli accanto vide e ne ebbe compassione gli si fece vicino gli fasciò le ferite versandovi olio e vino poi lo caricò sulla sua cavalcatura lo portò in un albergo e si prese cura di lui il giorno seguente tirò fuori due denari e gli diede all'abbergatore dicendo abbi cura di lui ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno chi è di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nella mani dei briganti quello rispose chi ha avuto compassione di lui Gesù gli disse va e anche tu fa così parola del Signore lode a te o Cristo vorrei dire così pregate fratelli e sorelle pregate che Futura vada oltre l'imponibile che Futura riesca veramente a credere e a creare un mondo migliore a creare un mondo di pace a creare un mondo d'amicizia a creare tutte quelle cose che si possono veramente fare anche perché in questi giorni ho visto delle cose brutte e delle cose belle ma vorrei vederne tutte belle vorrei vedere coloro che vanno in giro con i telefonini ma lo fanno a casa sua e non sulle macchine per farsi serve e poi investire le persone vorrei credere che i telefonini si possono adoperare seduti nei bar e nei sali gioco in tante cose ma non al volante dell'auto grazie e così guarda signori doni della tua chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti per Cristo nostro Signore Amen vorrei così chiudere anche perché in questo questa notte parto e vado a Bruxelles spero di vedere nel viaggio Alfonso e di salutarlo anche perché è un bravo ragazzo e come ragazzi come lui ce ne sono pochi vorrei sperare che tutto il mondo sia come Alfonso non vorrei vedere Emanuele ma spero che Emanuele si metti a posto per suo conto spero che Raitti anche lui si rimette a posto per suo conto spero che Anselmi capisca le cose spero che Anselmi diventi anche lui un bravo ragazzo anzi pregherò per lui e accenderò un cielo alla Madonna sia per Raitti che per Manuel Cherry e tante altre persone veramente perché veramente vorrei che cominciassero a capire cosa sia l'amore cosa sia la felicità cosa sia quelle cose veramente straordinarie di questa grande vita perché veramente ci vuole amore pace e simpatia e così vorrei dire questo ridere 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 ancora ora la guerra paura non fa bruciano le divise dentro il fuoco la sera bruciano nella gola vino a sazietà musica di tamburelli fino all'aurora il soldato che tutta la notte ballò vide tra la folla e quella nera signora visto che cercava lui si spaventò corri 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 cavallo corri ti prego fino a San Marcanda io ti guiderò non ti fermare ti prego corri come il vento che mi salverò oh oh cavallo oh oh cavallo oh oh non è poi così lontano a San Marcanda corri cavallo corri di là ho cantato insieme a te tutta la notte corri come il vento che ci arriverà oh oh cavallo oh oh cavallo corri in futura corri in futura insieme a cavallo e vedrete che insieme un domani si ritornerà tutti insieme a coloro che mi ascolteranno a coloro che vorranno candidarsi per le prossime elezioni in tutti i paesi del mondo dalla Romagna alla Lombardia alla Sicilia all'est Europa a tutto il mondo perché veramente voglio cambiare questo pazzo pazzo mondo di merda voglio un mondo d'amore voglio un mondo di felicità e un mondo d'amicizia per tutti e voglio veramente credere che si possa fare basta volere vorrei così augurare a tutti un buon giovedì e ci sentiremo venerdì grazie ragazzi grazie grazie di cuore grazie a coloro che mi compreranno le tessere grazie di cuore a tutto il mondo paese grazie a coloro che mi aiuteranno a vincere a coloro che mi daranno la forza di far ripartire l'agricoltura di far ripartire le acerie di fare i contratti per queste guardie giurate di fare i contratti anche per i pubblici ma a modo mio a modo nostro perché chi lavora può vincere chi non lavora non va bene per il futuro mi dispiace per il futuro ci vogliono dei lavoratori ci vuole della gente che capisce cosa vuol dire lavorare che sappi soffrire per guadagnarsi una pensione a 35 anni e non più a 42 e non più a 47 e non più a 50 e aumenteremo le pensioni quelle da 250 euro a 1.200-1.300 euro daremo anche le pensioni e daremo gli stipendi ai carcerati per coloro che lavoreranno per contribuire al bene comune metteremo a posto le banche tra Stato privato e Chiesa andremo dal Papa a chiedere i soldi per tante cose faremo ripartire la produzione faremo ripartire l'imprenditoria edile faremo ripartire tutto non ci sono problemi dai mari ai monti alle strade alle pensioni ai lavoratori a tutto quanto perché Digiuni ci crede e vuole che presto si ritorni tutti in Serie A per avere tutti una grande umanità un'umanità di non avarizia di non egoismo ma solamente di amore ciao a tutti e buona serata grazie a tutti